la superficialità e la rassegnazione ci ammazzeranno e detto questo poi magari se volete farò qualche altro breve intervento lascio la parola ai nostri candidati regionali anche penso o a Laura lascio la parola a loro e ricordate che noi spesso ci viene detto che siamo il partito del no noi non diciamo mai no a qualunque costo perché invece vogliamo sempre entrare nel merito della questione e studiare e dare un'opinione ragionata ma ricordatevi anche che noi non diremo neanche sì a qualsiasi prezzo e il prezzo di abbandonare e rinunciare ai diritti sacrosanti del popolo italiano ecco quel prezzo noi non lo pagheremo mai